Un incidente stradale torna a far parlare della discarica di Podere Rota in Val D'Arno. Attorno alle 8.15 un autobotte con cisterna a rimorchio contenente percolato da discarica si è ribaltata lungo la strada provinciale 7 di Piantravigne nel comune di Terra Nuova Bracciolina. L'automezzo appena uscito dagli impianti di Podere Rota, immessosi sulla strada provinciale in direzione Badiola per motivi ancora in fase di accertamento è uscito dalla carreggiata e le ruote sono scivolate lungo il canale di scorrimento delle acque meteoriche provocando il ribaltamento del mezzo che si è adagiato di fianco sul terreno confinante la discarica. Anche il conducente è rimasto illeso e nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi o persone. Nell'impatto sono stati sversati sul terreno solo pochi litri di percolato che hanno interessato una limitata porzione del terreno circostante dalla parte opposta del borro che scorre lungo la discarica. Xai S.p.A., l'azienda che gestisce la discarica di Podere Rota, totalmente estranei fatti, ha prestato i primi soccorsi rendendosi parte attiva nel contenimento del danno allertando i vigi del fuoco, l'ARPAT, l'ASL e il comune di Terra Nuova. A tal fine, vista la disponibilità e la vicinanza dei mezzi e del personale specializzato, il sindaco Amerighi ha emesso un'ordinanza contingente chiedendo alla società di provvedere alle prime urgenti opere di messa in sicurezza dell'aria. Sul posto sono prontamente intervenute le autorità preposte, vigi del fuoco con un'autopompa che hanno provveduto a travasare il percolato contenuto nelle cisterne del mezzo ribaltato su di un altro mezzo della stessa ditta, mentre l'ARPAT ha fatto e continuerà a fare nei prossimi giorni i primi necessari prelievi e campionamenti delle matrici ambientali interessate dall'incidente al fine di appurare l'entità dell'eventuale inquinamento. I vigili urbani e la polizia provinciale hanno provveduto invece a regolamentare il traffico che è stato interdetto in un senso di marcia, apponendo dei semafori. Sul posto è arrivato anche il sindaco Ameghighi con alcuni responsabili dell'ufficio tecnico comunale per rendersi conto di persona dell'accaduto.